A sei mesi dall'alluvione sono stati erogati ai vari comuni colpiti 22,5 milioni di euro per i primi ristori a famiglie e imprese. È previsto però un iter troppo lungo e complicato? Sì, in effetti questi giorni abbiamo assistito alla bella notizia dove ci veniva comunicato che la Regione finalmente metteva a disposizione i primi soldi alle amministrazioni comunali, soldi che poi devono essere dirottati nelle casse delle imprese e delle attività alluvionate. Però a questa buona notizia ne è susseguita una non proprio buona, nel senso che ci è stato fatto notare da più parti, anche dalle amministrazioni comunali, che questi soldi non possono essere dirottati immediatamente nelle casse delle attività, in quanto le amministrazioni debbono compilare delle pratiche burocratiche non proprio semplici. Ecco, quindi noi riteniamo che questi primi 20 mila euro debbono essere un nesso causa-effetto dell'alluvione, un ristoro d'emergenza. Dovono essere soldi dirottati immediatamente nelle casse degli alluvionati, sono passati sei mesi, molte attività ancora ad oggi non sono riuscite a ripartire, molte devono ancora ristrutturare le proprie attrezzature, comprare dei nuovi macchinari e quindi questi soldi sono necessari, ma sono necessari subito. Per qualsiasi necessità i cittadini possono fare riferimento direttamente a voi? Assolutamente sì, sia noi di Conf Esercenti che CNA del collega Fausto Baldarelli, ci mettiamo come sempre a disposizione di tutte le attività alluvionate, ma anche dei cittadini, siamo a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento e per qualsiasi pratica burocratica. Baldarelli dunque che cosa chiedete alla Regione Marche? Noi chiediamo alla Regione Marche subito di modificare la delibera regionale, quindi le 20.000 euro devono essere date immediatamente come riconoscimento del danno, poi per le successive rimborso, gli ulteriori 20.000 euro, in quel momento l'impresa preparerà la documentazione e le asseverazioni, non dimenticando che con i modelli che hanno legato il modello C e il modello D, sia le imprese sia i cittadini hanno dichiarato veramente i danni. Quindi mi sembra, oltre al danno arriva anche la beffa, voglio essere un po' categorico, Cioè tutti diciamo che i soldi sono arrivati, sono stati finanziati, però nelle tasche reali dei cittadini e delle imprese non stanno arrivando. Non possiamo aspettare di più, quindi chiediamo urgentemente alla Giunta regionale, io ho già avvisato i consiglieri territoriali, in modo tale che si attivano per modificare questo addempimento. È un addempimento importantissimo, altrimenti ne risente tutta l'economia delle aree alluvionate.